in dieci anni sono silver 2 35 euro per gli amici 100 edo sei già i tariff viking come stai? sai che sto guardando un video della bcs piace mentre mangiavo mi era uscito il nome e lo stavo guardando e ti piace? e non sì sì bella partita non l'ho vista ma bella non l'ho vista tutte ti piace? sì sì puoi sentirtelo dire sì senti ma com'è che tutte le ragazze che mi porti non funziona? ma sei ancora in live? è così è così facciamo che la risposta trado quando chiudi la live così posso essere brutalmente onesto no sì brutalmente onesto anche a tutti secondo me è che le prendiamo troppo in giro si vede che che noi ci non è una conversazione in cui loro sono nostre pari siamo noi che le prendiamo un po' in giro e intanto io dico però dai Paolo tutto sommato non è così male potresti metterti insieme a lui è un po' come metterle alla berlina se un attimo io e te perché anche tu lo fai sentiamo un po' di conversare come degli esseri umani normali e non dei mostri assetati di prese in giro secondo me funziona un po' meglio però c'è comunque quella cosa là che ormai non è più capelli stai invecchiando penso che si sentono molto più agio se fanno uno speed date su twitch che almeno c'è un pubblico che segnala se c'è qualche abuso durante la chiamata insomma penso che però credo che la strategia corretta sia che quando diciamo non ci si deve mai andare subito con i piedi di piombo o istantaneamente la strategia corretta forse è che capito le prime 5-6 volte ci fai un po' di gaming fai delle battute ti mostri simpatico la nostra arma migliore la simpatia eh piuttosto sentire il coach che mi spiega come se non sono le ragazze me ne va la ragazzi ci sentiamo vabbè insomma ci fanno due o tre partite così un po' di gaming e poi magari insomma dopo un po' si accenna anche perché poi capito quando uno conoscono ragazzi in un gruppo di amici eh non è che tu fai piacere Paolo vuoi essere la mia ragazza capito quindi eh credo che anche riferito alla realtà sia una valida tesi ecco tu non credi sì credo ma Robertale ma quindi come scusa ma figlia che domandai Paolo che cosa vuoi sapere come va come va come va in generale è bene sì tu la tua è la tua amata qual è la mia amata quella che ha detto che eri davvero innamorato ah ma non ero serio sai che questo è il problema Roberto che se non sei serio non è stato il limone Paolo limone o pesca io sono oh minchia Rabbo la Rauser questo è fortissimo uno dei giorni più forti con cui abbia mai giocato un grande veramente comunque certo non ci sono grosse possibilità di cioè di di accappararsi una femmina finché tieni quella schermata di caricamento di te vestita da Jinx sul client hai fatto Grandmaster no però sono molto più vicino se fai Grandmaster non possiamo fare più due ma mi sa che non possiamo già fare più due finché sei master possiamo mamma che angoscia per questo coglione dai concediti Paolo mamma mia l'uccello è malagoria dico concediti no parlavo con Belved cosa ne pensi io ti dire è più facile giocare solamente a un campione boys si impara prima si massimizza il personaggio chiedete a muore no possiamo giocare se lo ti pincio casette guadagna un sacco di punti aura secondo me forse moriva la scala Roberto smetti di flammarmi in chat sei ridicolo stupido lo fai così no ma ha scritto quello che pensavo davvero figurati si certo è riferito a te no era riferito a te no è riferito a te palisemente tu ma chi è riferito apocalips dobbiamo dargli dei nomi però io che sto parlando ora sono Roberto e l'altro invece è Platy mamma mia che situazione immagina finito tutti quanti dicono Platy lo sapevo ma perché sei un un bullo Roberto no no ma poi come ti permetti si paolo ma tu ti senti tranquillo a stare in questa senza discord con noi mentre stai giocando o ti senti che ti distraiamo allora non appena hai la possibilità stream che a vedere con 10 secondi di delay mi viene un 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 giramento di test si un giramento di test bravo posso dire una tocca che comunque potrebbe essere causa anche di Paolo dovresti proprio abbassare il volume di Platy ma non perché ce l'ho con lui proprio perché ce l'hai veramente tanto tanto alto c'è quindi oltre a dire cazzati sono cazzati ho sentito aspetta ho passato un po' il mio audio è incredibilmente alto noi non siamo contenti io muoio prego di me che non c'è scala non c'è ne vogliamo mi aveva cingito apposta si 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 ma è giusto sento adesso anche io l'audio della live non mi si può sentire altissimo ma che cuore che cuore che cuore che cuore facciate anche di la vasta vedete proprio la frutta cavolo in botta alla canna del gas fina più gutta cazzo cazzo che cuore che si muoia adesso da parte e caramba mi sa oh qui ma la jesus sindrome colpisce forte ma ma gin mor qui Qui vuoi salvare qui? Oh mia che fastidio che fai la gente paura, si so la grida, che fastidio, eh beh però magari gli ho fatto un misto a 2 minion, l'avevamo visto Poi vendere la pozione adesso non mi piace per niente in questo workshop, ma la venderò lo stesso e mi farò delle swiftness E non sa credo, e mi muore poi dai, trombiamo Incredibile Ehi che Mi muore adesso Ho ucciso la WD7, eh sì di Jin No la, cos'era la WD7? Adesso non mi ricordo WD7 Si è la WD7 Che truffa Ho proprio una rapina, sequestro di persona l'ho fatta Fai un mato, stavo male Il gameplay è peggiorato, ma non di tanto Cioè sono passato a fare tipo 1-2 ore la partita, 5-6 Però Mi muore adesso Mi muore adesso Eeeh 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 un po' di maschera spero di scappare se vengono a battere si muoiono sempre stavo pensando un po' al tuo problema Paolo qual è il problema avrei? quello delle donne si ho elaborato una soluzione ah 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 hai sapere due settimane di festa per andare in thailandia? ti fai ma scusa bambina la importi in italia e vivi felice del resto dei giorni hai visto il club invece di fare il coglione? si ho visto il terapia invece di fare il coglione però cioè pensi ci sono più in terapia che non sono mai stati magari vengono a te? è lusso no uh brutto no no è l'unico no 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 che vuole? wow per favore oh porca eh questo era huge se lo beccavi huge run to game porca mattina il che l'occa la l'occa 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 Grazie per la visione ... basta ancora un po' plati ma non stavo parlando no ti giuro eh quando parla è veramente forte però lei ha un battuto dico due cose adesso come mi senti in live aspetta vabbè non so, forse se parlassi a volume standard sarebbe un po' troppo alto ovviamente però sto prendendo piano Mark Tash e come Mark Tash adesso non difendono questa roba bello non 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 se va molto game time ehi che lo scanner è bello bello cicciotto dai che mo si va ammazzati ragazzi anche a scala giova non è vero Ottimo questo Buono Sì Se Dio vuole Entrano in T2 Ma se c'è scannola Manco il logo ti prego di merda E ora è un muoio Sì madre di dio abbiamo levato 7 hp secondo tab 2 item oh dio di estremo late avete i campioni che lo possono sciogliere però è un po' molto avanti cioè dovete andare molti late game prima che fate qualcosa qui sta cos'è che ha fatto il cuore del scioglio poi? Sunfire sui 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 Ora, potrei passaggiare. Ah che bel grab che hai fatto Porco due E' ancora più il filo Secondo te dovevi grabare l'isca arna e hai grabato l'altra così perché ti è venuto a grabare l'altra o vi avrebbe ammazzato? Gin Lo beccavi dentro Non ho capito a quando Cioè dico quando hai grabato, non so chi hai grabato Gin Hai fatto bene a grabare Gin o era ad ammazzare Scarn? Era il caro nemico cazzo Scarn ci mette troppo a morire Vabbè è che aveva molto molto potenza Tanto poi Gin magari vi faceva di piesta addosso Comunque hai intuito vai sempre per il cario in quel caso si potevi... Si si no è fatto bene è fatto bene Uno magari poteva andare per Scarn perché voleva la taglia So effettivamente poi magari il fight non finiva così bene com'è finito adesso Beh dni 거� el khó No Come Vari No O Ah Mi 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 Ng Mi cracking Ng Ma D выб vabbè gran gaming paolo non mollare che c'era nel sacco vado un attimo di sopra non lo so la cosa parla non so come uscruire ah è amo Sì 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 Perché non gli muoio la carne invece Bisogna dire più sempli Sì 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 Grazie a tutti. Molto bello. È difficile mi stare a 15, mezzo a 7. Ah, c'è i minion, non è che è in posizione. Muori sono felice. Oh, godo, 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 godo. Via, via. E cosa buildare? Messa la fede, perché in realtà anche magico si sente forte. Scanna e fa danno un po' fisico, un po' magico. No, aspetta, ho visto una cosa strana, ma Viego è passato attraverso il buchino lì del lato rosso perché era Scarner. O perché Scarner quando va in carica può passare attraverso quella roba di comunque. No, ho capito. No, vabbè, non importa. Ho visto Viego attraversare non il muro, ma... Che cuore. Eh sì, ma quella carica lì, eh... Vabbè. Vabbè, un po' la salute. Vabbè, un po' la salute. Ma non posso andare. Eh, peggiorare conno. Vabbè, un po' la salute. Vabbè, un po' la salute. E' un po' la salute. Vabbè. Vabbè, vabbè. Ma... Deppero guardare un po' sul cazzo... ... 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 C'è un'altra cosa? E' morto No no no, non è capito Malissimo, middle game Può gridare la colpa a qualcuno ma potevo vincere questa partita Bel game eh, Gann e Gragas avevano un problema anche gli altri E' morto sapato E' morto sapato Perfetto Porco due ma quante cazze di trappole E' morto sapato E' morto sapato E' morto oh che fai Noi, 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 noi Grazie a tutti Sì, 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 sì Adoro vincere Non è vinta però Un bel fight però Forse Ho fatto quasi tutto giusto L'unica cosa che mi ha da dire è che forse Dovei tenerti il grab per Yasuo quando ho buttato Che hai grabato due secondi prima Scarner, è passato un po' così Però vabbè Ho giocato col senno di poi Sì, è passato un po' così Ricordo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Guarda, non muore Che merda Che merda Che merda Che merda Quattro Posso immaginare il tilt di questi poveri stronzi Che merda, abbiamo vinto la partita Mamma mia Mamma mia Mamma mia Come nei film Che cazzo di film Che è difficilissimo oggi Questo game ha fatto un gran lavoro